Musica Un incontro con i sindaci e i presidenti di provincia dei territori interessati dal metanodotto SNAM sul Mona Foligno convocato dal presidente dell'Aggiunta regionale Marco Marsilio a Palazzo Silone all'Aquila. Riuniamo i sindaci, ha detto Marsilio, perché il territorio deve porsi il tema di come negoziare con SNAM e con il governo le compensazioni previste dalla legge e decidere insieme come meglio utilizzare questi fondi. La regione si pone come mediazione tra lo Stato e i singoli comuni coinvolti sempre che si possa trovare su questo una condivisione, un percorso comune da portare avanti. Il presidente Marsilio mercoledì era stato invitato a partecipare alla seduta del Consiglio dei Ministri proprio per affrontare l'argomento in quella sede. Ha rappresentato così le istanze provenienti dal territorio e le criticità che sono state espresse nel tempo. Tuttavia, al termine del confronto con il governo, il ministro Cingolani aveva rappresentato la necessità e l'urgenza dell'intervento chiedendo di approvare il punto in questione senza ulteriori condizioni. L'infrastruttura portuale di Vasto sta conoscendo una nuova fase di potenziamento e rilancio in favore dell'intero tessuto industriale e commerciale non solo della provincia di Chieti ma dell'intera logistica regionale. Lo ha dichiarato il sottosegretario alla presidenza della giunta regionale con delega all'infrastrutture Umberto D'Annuntis. Sono stati ultimati i tanto attesi lavori di dragaggio del bacino portuale per un importo complessivo di circa 1.900.000 euro ha continuato il sottosegretario e contemporaneamente è stato pubblicato il bando di gara europeo per la realizzazione della prima tranche di lavori di prolungamento del molo di sopraflutto per un importo complessivo pari a 12 milioni di euro. Il presidente Marsiglio e la sua giunta sin dal loro insediamento ha proseguito D'Annuntis danno tangibili risposte alle richieste degli operatori del settore trasporto marittimo e logistica grazie ad una costante e attenta programmazione e realizzazione degli interventi così come previsti dal piano regolatore portuale approvato nel 2014 e non attuato nella precedente legislatura. Diffondere la cultura della prevenzione e la conoscenza delle buone pratiche di protezione civile accrescendo al contempo la consapevolezza dei rischi naturali presenti sul nostro territorio sono gli obiettivi della campagna di comunicazione Io non rischio promossa dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile che sabato 15 e domenica 16 ottobre si animerà nelle principali piazze abruzzesi. Nella manifestazione saranno impegnati i volontari al fianco delle istituzioni del mondo della ricerca scientifica con l'obiettivo di sensibilizzare i cittadini sui rischi delle calamità naturali. Fondamentale è il ruolo attivo dei cittadini che potranno informarsi e confrontarsi nelle piazze fisiche e digitali dove con l'ausilio di contenuti interattivi e dirette streaming sui social media si forniranno spunti e approfondimenti sui rischi e sui comportamenti utili da adottare per proteggere se stessi e l'ambiente in cui si vive. Sul sito www.ionorrischio.it è possibile consultare materiali informativi, reperire informazioni utili e aggiornamenti sugli appuntamenti in programma. Arrivano nuove risorse finanziarie da destinare alle persone con disturbo dello spettro autistico. Lo ha comunicato l'assessore alle politiche sociali Pietro Quaresimale dopo la comunicazione del governo di aver accreditato alla regione Abruzzo la somma di 2 milioni 100 mila euro per i progetti di inserimento in favore degli autistici. Si tratta di una novità assoluta, ha spiegato Quaresimale, perché per la prima volta vengono erogate risorse finanziarie al di fuori della programmazione annuale per potenziare progetti o avviare nuove esperienze di inclusione. E su questo terreno ci muoveremo, ha annunciato l'assessore, nel senso che le risorse straordinarie saranno tutte destinate a dare un aiuto concreto e fattivo alle persone affette dal disturbo dello spettro autistico. Le risorse erogate rientrano nel fondo per l'inclusione delle persone con disabilità, con la particolare destinazione riservata agli autistici. Nell'erogazione del contributo straordinario il governo ha indicato finalità e criteri per l'uso delle risorse stesse. I progetti dunque dovranno riguardare interventi di assistenza sociosanitaria, percorsi di socializzazione, progetti volti a dare sostegno agli enti locali per l'attività scolastica dei ragazzi autistici, progetti di inclusione lavorativa e sperimentali in tema di residenzialità per il miglioramento della qualità della vita. La formazione è un elemento fondamentale sia per introdurre i giovani nel mondo del lavoro, sia per portare avanti un percorso qualificante e creare figure sempre più competenti e specializzate. L'ho detto l'assessore regionale Pietro Quaresimale che all'Aquila ha visitato, su invito del Lance, il centro che ospita in località San Vittorino, tra gli altri anche il progetto innovativo per la formazione di soggetti svantaggiati nel campo dell'edilizia. La struttura era prima utilizzata come hub vaccinale ed ora ospita anche una stanza tra le più grandi d'Italia, dimostrativa della sicurezza contro le cadute dall'alto che ancora oggi rappresentano purtroppo molti degli infortuni mortali sui luoghi di lavoro. La formazione al giunto Quaresimale è fondamentale anche nel campo della sicurezza, visto il peso specifico che ha attualmente il comparto delle costruzioni e delle ristrutturazioni. È anche vero che si tratta di un settore che scontra difficoltà forti in questo momento, nonché urgenze inderogabili, tra cui proprio la scarsità di manodopera e di figure professionali formate e specializzate. La Regione Abruzzo sul fronte della formazione è fortemente impegnata sia in attuazione del PNRR sia con il Fondo Sociale Europeo per incrementare le opportunità lavorative, affinare le competenze della forza lavoro, ma soprattutto prevenire gli infortuni sul lavoro e combattere le cosiddette morti bianche, promuovendo sicurezza e dignità dei lavoratori. Grazie a tutti!